Sanità Sosti lavori di demolizione dei palazzi di via Pantaleoni a Macerata Entro la fine del mese dovrebbero essere abbattuti tre supercondomini Verso l'estate 2024 nelle Marche, bene la costa, villaggi e campeggi verso il sold out Prenotazioni in sordina negli alberghi Buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento con ETG Marche In primo piano un'ampia pagina che dedichiamo oggi alla sanità E quindi le liste di attesa, le prestazioni sanitarie una su due fuori dai tempi garantiti Il punto con il monitoraggio appunto dei tempi d'attesa nella nostra regione Ci racconta tutto Laura Meda nel servizio, vediamo Liste di attesa, un incubo spiega un'indagine di altro consumo per 9 italiani su 10 E nelle Marche la situazione non è certo migliore Gli ultimi dati resi disponibili dalla regione riferiti alla settimana 4-8 marzo Confermano un trend non proprio positivo Nel periodo di riferimento ad esempio sono state registrate 320 prenotazioni Per una visita cardiologica con classe di priorità B Ovvero da eseguire entro 10 giorni Di queste però solo 172, poco più della metà, hanno rispettato i tempi Trend negativo anche per le visite neurologiche 144 prenotazioni in classe B rispettate a fronte di 278 richieste Urologiche garantite 111 prestazioni in classe B su 158 Gastroenterologiche 39 prestazioni in classe B a fronte di 85 richieste Colpisce anche il dato relativo alle visite oncologiche Visite spesso salva vita In classe B solo 20 prestazioni su 43 hanno rispettato i tempi E le prenotazioni con classi di priorità inferiore non vanno di certo meglio Da segnalare i tempi di attesa per le mammografie 19 prestazioni su 35 in classe B 71 su 110 in classe D 162 su 364 richieste in classe B Che prevede tempi di attesa di circa 4 mesi Eppure la regione, lo ha fatto sapere, nelle scorse settimane Anche il governatore Acquaroli sta lavorando al problema In ogni caso, spiega il DG dell'ospedale regionale delle Marche Armando Gozzini Quando le modifiche del sistema sanitario entreranno in vigore al 100% La situazione migliorerà nettamente Sappiamo che ci sono qualche delle calcune o diverse criticità in diversi ambiti In molti casi in fase di risoluzione E quindi il sistema sanitario sta cambiando moltissimo E questa criticità nasce anche da quello È un'inversione del rapporto ospedale-territorio Prima c'erano gli ospedali e basta Adesso invece sarà il territorio a dover rispondere Quindi attendiamo questo equilibrio dei vasi comunicanti E poi vedrete che tutto sarà risolto Non resta dunque che aspettare un po' insomma come stiamo facendo E di sanità ha parlato anche la segretaria del Partito Democratico Elish Klein oggi nelle Marche Prima tappa ad Osimo nel tour elettorale Verso dunque l'appuntamento con le urne dell'8 e 9 di giugno Con le europee ma anche tanti comuni al voto coinvolti anche nella nostra regione Sentiamo Giulia Boschi La segretaria nazionale del PD Elish Klein Fa tappa nelle Marche per sostenere i candidati sindaco Di alcune delle principali città che andranno al voto Alle prossime elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno Si parte da Osimo per sostenere Michela Glorio E poi il tour proseguirà a Urbino e Pesaro Per incontrare sia i candidati sindaci ma anche per fare il punto Con i candidati del PD alle prossime elezioni europee In particolare nella città dei senza testa L'approfondimento a porte chiuse è stato fatto anche sul tema sanità Anche nelle Marche vediamo la sofferenza di chi non riesce a prenotare Una banale visita specialistica prima di un anno, un anno e mezzo Questo vuol dire uccidere la prevenzione Il problema è sbloccare le assunzioni E riuscire a far riempire questi reparti Di modo che anche le liste d'attesa vengano naturalmente drasticamente abbassate Noi proponiamo una legge che abbiamo portato in Parlamento Che ha la mia prima firma Che fa esattamente questo Chiede di mettere più risorse sulla sanità pubblica Di sbloccare il tetto alle assunzioni Che impedisce alle regioni di assumere E che è stato fissato nel 2009 E riuscire a fare un piano straordinario di assunzioni per la sanità pubblica Nell'arco dell'incontro è inevitabile trattare anche temi nazionali Come il caso della corruzione in Liguria La segretaria ha chiesto le dimissioni del governatore Giovanni Totti Che davanti al GIP si è avvalso della facoltà di non rispondere Schlein ha inoltre ribadito anche il tema del salario minimo Citando la classifica dell'Ocse su dati Eurostat Che evidenziano come tra il 1990 e il 2020 L'Italia è l'unico paese dell'Unione Europea Ad aver fatto registrare una variazione negativa dei salari reali In altre parole Se si guarda il rapporto tra prezzi e retribuzione Oggi guadagniamo meno che nel 1990 È l'unico paese d'Europa in cui questo accade Noi non possiamo più essere questo paese qui È il momento di rilanciare con forza la legge di iniziativa popolare Su cui stiamo raccogliendo le firme Che stabilisce un salario minimo in Italia Sotto i 9 euro non è lavoro ma è sfruttamento E non lo possiamo accettare Accanto a questo però naturalmente bisogna lavorare Perché i contratti di quei 5 milioni di lavoratrici e lavoratori Che non sono stati rinnovati Vengano rinnovati e adeguati anche A come l'inflazione e la crisi energetica Hanno pesato sulle loro tasche Ancora salute Intanto il 18 e il 19 di maggio Visite gratuite di prevenzione in piazza Pertini ad Ancona Sentiamo Prevenzione in azione è un progetto Nato dalla fondazione azienda ospedaliera universitaria delle Marche Ollus Subito dopo il Covid Perché ci eravamo resi conto Che il periodo di pandemia aveva un pochettino rallentato L'afflusso delle persone che avevano necessità di cura in ospedale E allora abbiamo pensato a una cosa Una strategia Portare l'ospedale sul territorio Quest'anno è la quinta edizione di prevenzione in azione E abbiamo quest'anno l'onore di avere con noi anche la fondazione Salesi Siamo orgogliosi perché l'ospedale è un unico E quindi lavorare insieme è bello Due giorni dedicati alla salute e alla prevenzione In programma i prossimi 18 e 19 maggio ad Ancona Torna anche quest'anno per la sua quinta edizione L'iniziativa organizzata dalla fondazione azienda ospedaliera universitaria delle Marche Per offrire ai cittadini visite e consulenze gratuite In cardiologia, gastroenterologia, oculistica, allergologia, immunologia, ortopedia Ma anche ostetricia e ginecologia, pediatria e chirurgia pediatrica Queste ultime grazie alla collaborazione iniziata proprio quest'anno Con la fondazione dell'ospedale Salesi Le visite si svolgeranno in piazza Pertini Dove verrà allestita per l'occasione una maxistruttura Al chiuso contenente 25 ambulatori specialistici Sarà insomma un vero e proprio ospedale aperto al pubblico in piazza È consigliato prenotare online sul sito dell'azienda sanitaria Ma anche senza previa prenotazione nessuno verrà lasciato indietro Ci sarà la possibilità di fare delle prenotazioni online Tramite l'home page dell'azienda ospedaliera Per evitare anche assembramenti Però accoglieremo tutte le persone che passeranno nella grande piazza Pertini Che sta diventando sempre più strategica per la nostra Ancona Nel 2023 quando l'iniziativa venne organizzata alla Mole Furono 1700 le visite effettuate in due giorni Quest'anno l'obiettivo è di raggiungere se non superare gli stessi numeri Ed ora per quanto riguarda la cronaca Lotta ancora per la vita ma le condizioni appaiono in miglioramento Così dice il bollettino medico per Patrizia Ceccolini La cinquantenne accoltellata dal marito Davide Sebastianelli Lunedì scorso a Sasso Ferrato I due si stavano separando La donna è stata colpita più volte dal marito Che l'ha aggredita a bordo di un'auto Dopo averla aspettata sotto casa A salvarla un vicino che udite le urla Ha intervenuto per soccorrerla Ha chiamato i carabinieri Ha bloccato l'aggressore Il marito è stato dunque arrestato E ora si trova in carcere a Montacuto Ancora per quanto riguarda la cronaca In questo caso andiamo a Macerata Nell'ambito dell'attività di repressione Di prevenzione nel settore anti-riciclaggio Il nucleo di polizia economico-finanziaria Della Guardia di Finanza di Macerata Ha sanzionato per oltre 1,6 milioni di euro complessivi Un agente money transfer E 11 clienti per l'illegale trasferimento di denaro all'estero Le irregolarità riscontrate Riguardano in particolare tecniche di frazionamento Degli importi trasferiti a beneficiari all'estero Per aggirare appunto le norme anti-riciclaggio Che non consentono ad esempio di inviare Somme superiori a 999,99 euro Nell'arco di una settimana E restiamo a Macerata Perché continuano senza sosta I lavori di demolizione dei palazzi Di via Maffeo Pantaleoni Appunto nel capoluogo maceratese Questi condomini Tre maxi condomini resi inagibili A causa delle scosse del 2016 Uno dei cantieri più grandi All'interno del cratere del sisma del 2016 In questi tre condomini vivevano 150 persone Ci racconta tutto Roberto Propersi Vediamo Lavorare bene con una collaborazione anche della cittadinanza Cioè tutti insieme Lavorare bene e tutti insieme Così uno dei direttori dei lavori Di via Maffeo Pantaleoni a Macerata Per budget e famiglie coinvolte Forse è il più grande cantiere del cratere sismico Tre supercondomini con quasi 150 appartamenti coinvolti E un importo complessivo tra lavoro pubblico e privato Di 50 milioni di euro Iniziati i lavori il 27 aprile Oggi 10 maggio Siamo quasi a metà del guado Una volta passati i primi due giorni Siamo riusciti ad entrare dentro Toglierci un po' dalla sede stradale Che quindi rimarrà con questa conformazione Per i prossimi anni Probabilmente almeno due anni Due anni e mezzo E in questo modo con i cannoni per l'abbattimento delle polveri E macchine importanti Vedete una pinza che ha un braccio lungo 30 metri Siamo riusciti a condurre la demolizione In maniera regolare e regolamentare Senza particolari disagi Né per la viabilità Né per la questione delle polveri 14 giorni di lavoro dunque condiviso Con grande partecipazione di tutte le parti Chiamate in causa Dal commissario Castelli Che ha promulgato l'ordinanza 149 Per farla propria e finanziarla In una collaborazione strettissima Con l'amministrazione comunale Quindi col sindaco Parcaroli L'assessore all'urbanistica Iommi La polizia locale Con la quale c'è stata una collaborazione davvero fattiva Tutto questo ha consentito anche di preparare Come dire mentalmente Di spiegare alle persone come avremmo operato Rassicurarle nei confronti di rischi Di varia natura Che chiaramente su edifici di una certa vedustà Potevano comportare nell'atto delle demolizioni Il cronoprogramma ora proseguirà con la demolizione Degli ultimi due edifici Ma prima Faremo una pista di collegamento con le macerie In maniera tale da poter camminare lì sopra Per andare a demolire il prossimo edificio Finito quell'edificio procederemo con l'ultimo Che è il civico 9989 Con la stessa metodologia Cioè sempre utilizzando una pista di macerie I tempi quindi diciamo Salvo ulteriori imprevisti 15 giorni 15 giorni Diciamo 7 giorni per ogni edificio E quindi consideriamo che il 27 maggio Le demolizioni saranno completate Ancora il post-sisma del 2016 Con il punto come facciamo tutte le settimane Con la trasmissione del giovedì sera Sibilla le voci della ricostruzione Il punto con l'architetto Francesco Nigro Sul destino delle aree Dove ci sono attualmente le soluzioni abitative di emergenza Vediamo Sono quasi 2000 le SAE Le soluzioni abitative di emergenza In tutto il cratere del sisma del 2016 Installate in mezzo alle montagne Spesso in zone impervie Hanno avuto costi di urbanizzazione Che fanno salire il prezzo a metro quadro A cifre da capogiro Quale sarà il destino di questi villaggi Con l'avanzare della ricostruzione E quindi il rientro delle persone a casa Ne parla l'architetto e urbanista Francesco Nigro Che tra le altre attività Nella progettazione post-sisma Si è occupato anche del nuovo piano regolatore di Norcia Non sono container appoggiati al suolo Sono terreni urbanizzati Con tutti i sottoservizi Con le platee di cemento armato Quindi non è che si può sostenere Ripristiniamo i luoghi Questa cosa è abbastanza Diciamo Inverosimile Oppure si può praticare Ecco Vi faccio il caso di Norcia Per dirvi Lì si è fatta questa scelta Che credo sia quella Che può guidare Tutti gli altri comuni Ma l'Umbria ha fatto un passo in più degli altri Perché la regione Umbria si dotò di una legge Per la ricostruzione nel 2018 In cui c'è un articolo dedicato a questo Cioè dedicato a che destino dare alle aree dell'emergenza Allora diciamo I destini sono diversi Nel senso che si può Intanto il problema base è Il rilascio di queste aree è progressivo Nel senso che i cittadini rientrano nelle loro abitazioni Progressivamente Non tutti insieme Questo tipo di strutture La protezione civile le fa attraverso dei contratti Che sono degli accordi quadro con le aziende Che producono questi manufatti Che sono come dire Certificati e tarati per 5, 6, 7 anni Già che durano ancora oggi Per me già questo è abbastanza miracoloso Quindi sull'oggetto di per sé Non bisogna fare affidamento Ma l'infrastrutturazione che è stata fatta È un valore Che Come dire Le comunità hanno in quei territori E potrebbero riutilizzare Posso fare come molti comuni Hanno già detto Ragionato Forse hanno anche deliberato qualcosa Usarle per l'ospitalità Di varia natura Puoi ospitare le scuole Scuole in visita ambientale Diciamo Gruppi scout Associazioni Ragazzi e ragazze Che hanno bisogno Che fanno delle attività all'aria aperta Puoi fare turismo low cost Li affitti alle famiglie Viene una settimana Una famiglia in montagna Gli affitti A un certo numero di euro Una casetta Che è attrezzata Per essere una casa Per me sono La persona più felice del mondo Questo Sono le prime cose Fino a delle possibili trasformazioni Molto più rilevanti O addirittura Poterle rimettere Diciamo così Virgolette Nel mercato Delle previsioni urbanistiche Cioè si può Cosa che per esempio A Norce abbiamo fatto Alcune di queste aree Si è detto Bene Dopo Ci si potrà fare Delle residenze Dopo Ci si faranno Delle attività produttive Questo mica è vietato Cioè Non c'è nessuno Che lo vieta Ma è chiaro Che è auspicabile Che questo avvenga All'interno Di un quadro Di pianificazione Poco prima Delle 14 Vigili del fuoco Sono intervenuti Sul sentiero Della memoria Tra San Giacomo E San Marco Nella Scolano Per soccorrere Un ciclista Che nell'affrontare Un single track È caduto Riportando Diversi traumi Una volta raggiunto Insieme agli uomini Del soccorso alpino E al personale sanitario È stato stabilizzato Adagiato Su una barella E trasportato Al punto d'incontro Con l'eliambulanza E andiamo Verso l'estate 2024 Nelle Marche Bene La Costa Villaggi e campeggi Verso il sold out Prenotazioni in sordina Però negli alberghi Il punto nel prossimo servizio Vediamo Sono buone Le previsioni Per l'imminente Stagione turistica Nelle Marche Crescono infatti I turisti Più gli stranieri Rispetto agli italiani E crescono soprattutto Coloro che scelgono Villaggi e campeggi Che arriveranno Quest'estate Al tutto esaurito Oggi i villaggi Nelle Marche Rappresentano quasi Due milioni e mezzo Di presenze Che sono il 50% Su base stagionale Di quelle Le regione Marche Quindi naturalmente Una buona fetta Di mercato Principalmente Un mercato Di famiglie Di famiglie che vengono Ne Marche con bambini Oggi il nostro Core Business È questo E abbiamo Riqualificato i nostri servizi E le nostre strutture Proprio per dar Il massimo Delle qualità Per questo tipo Di turista A questa stagione Che sta per iniziare Cosa ci racconterà? Un trend Sicuramente positivo Diciamo che Oggi possiamo parlare Di quasi un 15% Rispetto all'anno scorso Per quanto riguarda Le prenotazioni Quindi ci stiamo muovendo Molto bene I imprenditori Stanno riqualificando Le proprie strutture Credo che abbiamo Tutte le carte in regola Appunto Per fare una buona stagione E rispetto Anche con numeri Più importanti Di quelli del 2023 Trend straordinario Dunque per villaggi E campeggi Più incerto invece Per gli alberghi Che come negli anni scorsi Dovranno attendere Fino all'ultimo Per vedere Le prenotazioni Le premesse Per una buona stagione Ci sono tutte Ci sono molte richieste Come diceva prima Il presidente Gatti Villaggi Sono tutti pieni Noi hotel Abbiamo delle dinamiche Un po' diverse Però ci sono molte richieste Diciamo che l'anno scorso Gli italiani Si sono sfogati Sono andati all'estero Quest'anno Le destinazioni Che sono state scelte L'anno scorso Ovviamente Essendo cresciuta la domanda Hanno alzato le tariffe Quindi probabilmente Quest'anno Abbiamo delle chance In più di trattenere gli italiani E comunque sia C'è un flusso di stranieri Che sta crescendo Le premesse Per poter fare una buona stagione E se il turismo Legato al mare Comunque non conosce crisi Anzi Restano però i dubbi Sulle altre destinazioni Quelle in particolare Delle aree interne E montane Le strutture sul mare Hanno una dinamica diversa Quelle già stanno arrivando E ci sono Per le altre tipologie Di strutture Purtroppo che si occupano Di viaggi Di amici Individuali Coppie C'è la tendenza Negli ultimi anni E sempre crescendo Una presentazione sottodata Quindi poi quelle Verranno riscontrate In base a quelli Che saranno gli annunci Delle previsioni meteo E al medio effettivo Dei giorni E questo era il nostro Ultimo servizio Io per il momento Mi fermo qui Vi ricordo che trovate Le nostre news Sempre aggiornate Anche sul sito www.tvmarket.it C'è la nostra app Attraverso cui Si possono consultare Tutte le nostre Video news E ovviamente Seguiteci anche sui social Grazie ancora Per essere stati con noi E buon fine settimana Grazie a tutti Grazie a tutti